Bianchini, è un sogno quello di poter celebrare i matrimoni in piazza Transalpina? Ma guardi, io sono da tanti anni che combatto per fare in modo che il sindaco faccia questa delibera di giunta e che dice che quel giorno la piazza sarà casa comunale. Secondo noi il problema è solo uno, che il sindaco con la sua giunta devono fare la delibera di giunta. Però loro e chi cominciano a dire Roma, il prefetto, secondo noi sono tutte balle. Ripeto, basta che faccia una delibera di giunta e che dice la piazza quel giorno è casa comunale. Dobbiamo anche dire che questa piazza, secondo noi, è il simbolo della nuova Europa e penso che sarebbe una gran figata. Questo è il punto. Io continuerò a fare la mia battaglia, però vedo che ci sono dei muri. Ripeto, noi bisogna fare in modo e io mi auguro che il sindaco che verrà finalmente farà di tutto per valorizzare questa piazza che, ripeto, è il simbolo della nuova Europa. Quell'Europa però che vogliamo noi, un'Europa sociale e democratica. Perché oggi, come si vede, mi sembra che abbiamo la solita Europa sulla base finanziaria e delle banche. Questa è la mia battaglia che, se sarò ancora candidato, porterò avanti. Questo è il mio più grande sogno e penso che sarebbe proprio molto, 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 molto bello. Grazie a tutti.